Buongiorno a tutti amici, state guardando FilmFox. Come può un dodicenne essere stato la causa di tutti i mali? Come mai la sua matrigna lo vuole uccidere a tutti i costi? Oggi parliamo di La tua presenza nuda, un film del 1972, diretto da James Kelly e Andrew White. Sullo schermo appare una donna di nome Sarah, che perde la vita a causa di una scarica elettrica non appena apre l'acqua del rubinetto. La giovane che entra in casa invece si chiama Elise, ed è la seconda moglie di Paul dopo il tragico avvenimento con Sarah. Elise si prende cura della casa e del figlio di Paul, mentre quest'ultimo è via per lavoro. Girando per la casa Elise si imbatte in Marcus, il figlio dodicenne di Paul, che dice a Elise di aver preso mille pesos dal tavolo del padre per pagare il taxi dall'aeroporto a casa. Marcus è ben consapevole della trazione che prova per la propria matrigna, e per questo le chiede quanti anni ha. Ricevendo come risposta 22, si rende conto che ha la metà degli anni di suo padre. Elise si sente un po' a disagio per via di questi calcoli fatti da Marcus. Alla sera, mentre Marcus è in doccia, Elise lo disturba per chiedergli di rispondere al telefono a suo padre. Paul vuole sapere come sta andando. Dopo aver parlato con il padre, Marcus passa la cornetta alla matrigna, e mentre questa cerca di avere la conversazione con il proprio marito, Marcus non si fa problemi a toccare la giovane matrigna in modo piuttosto esplicito, cosa che causa parecchio disagio a Elise che esce subito dal bagno. Il mattino successivo, Elise si sveglia e apre la finestra. Fuori, vede Marcus giocare a pallone. Lo chiama per fare colazione. Marcus prende delle lettere dalla cassetta postale, rientrando in casa ne nasconde una. Elise li chiede di cosa si tratta, il che Marcus le dice che si tratta di una lettera personale, spediteli dal padre. Tornato a casa, da scuola, Marcus va a nuotare in piscina. Ad asciugarsi, ovviamente, lo aiuta la giovane matrigna, che approfitta per chiedergli della lettera. La sua insistenza turba Marcus, che crede che Elise li stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, Paul rientra dal suo viaggio. Ad incontrarlo sono Marcus e Elise, e rientrati a casa, Paul e Elise passano momenti piacevoli insieme. Elise, vedendo Marcus da solo in giardino, chiede a Paul se ha degli amici. Paul, dopo essersi acceso la sigaretta, risponde che Marcus ha amici, ma preferisce passare del tempo da solo, e che dopo la morte della madre ha bisogno di tempo. Dice a Elise che oggi si mangerà in un ristorante cinese. A tavola Paul chiede a Elise se è stata lei a prendere i soldi dalla sua scrivania. Lei gli risponde che è stato Marcus, ma inaspettatamente Marcus nega di aver preso quei soldi. Tra i due inizia un breve dibattito. Paul dice a entrambi di non preoccuparsi, in quanto sospettava fossero stati rubati dalla donna delle pulizie. Elise ribadisce che la donna delle pulizie è una donna onesta, e che i soldi li ha presi Marcus. Dopo la cena, Elise decide di cercare i soldi nelle tasche dei vestiti di Marcus, e mentre lo fa, trova i pezzi della lettera nascosta da Marcus. Padre e figlio giocano insieme in acqua. Marcus dice a Paul che non piaccia a Elise, e che è per questo che l'ha incolpato di aver preso i soldi. E che ha addirittura frugato nelle sue tasche. Paul dice a Elise che Marcus ha bisogno del tempo per accettarla in famiglia. Il giorno dopo, Elise visita il preside della scuola di Marcus, Dr. Castle, che fa presente alla giovane che Marcus è stato espulso per via del suo comportamento inappropriato. Marcus, durante le lezioni faceva dei disegni erotici, in più, ha ucciso un gatto dopo averlo torturato a lungo. Elise scopre che la lettera che Marcus ha nascosto era proprio la richiesta del preside rivolto al padre di visitarlo. In più, le dice che il padre in realtà era conoscenza dei comportamenti del figlio. Dr. Castle sostiene che Marcus ha bisogno di farsi visitare da uno psichiatra. Elise e Paul si recono ad una festa di un'amica di Sara di nome Sofia. Sofia dice che la sua casa una volta apparteneva a Paul e Sara, notizia che fa arrabbiare Elise. Paul dice a Elise che ha venduto la casa a Sofia per sbarazzarsi dei vecchi ricordi con Sara. Elise chiede a Paul di raccontarli di più della morte di Sara. Paul a malapena le dice che Sara aveva dei problemi al cuore e che a causa di un attacco cardiaco annegato nella vasca da bagno. In una scena successiva, Paul ritrova i soldi sulla propria scrivania. Elise crede sia non giochi di Marcus. Gli racconta della sua visita dal preside, dell'espulsione di Marcus e dei suoi comportamenti inappropriati. Paul rimane calmo. Non vuole punire il figlio in quanto secondo lui sta già passando abbastanza. Elise dice che Paul non può far finta di niente e che la situazione richiede delle azioni decise. Paul si arrabbia perché crede che a Elise semplicemente non piaccia Marcus. Elise è amarggiata dalle parole di Paul e è sicura di voler semplicemente aiutare Marcus e che per farlo bisogna porre attenzione ai suoi comportamenti. Paul racconta a Elise che è stato Marcus a trovare Sara morta nella vasca per primo e che è per questo che la sua psiche si è frantumata. Paul ritiene che per guarirlo ci vuole tempo e amore nei suoi confronti. Elise comprende quanto sia difficile per Marcus stare senza la madre. Promette a Paul di badare a Marcus in modo più empatico. Elise sale in soffitta e trova dei vestiti di Sara. Dopodiché entra nella stanza di Marcus e gli dice che Paul sta per andare via a Parigi per lavoro per un paio di giorni e che loro rimarranno di nuovo da soli. Le chiede anche dei vestiti di Sara che ha trovato in soffitta ma Marcus sostiene che i vestiti non appartengono a Sara. Marcus chiede a Elise se sa cosa è successo a Sara. Elise dice che Paul le ha detto che si è trattato di un incidente al che Marcus le suggerisce di chiedere meglio il proprio marito. Elise si incontra con Sofia e insieme vanno alla tomba di Sara. Elise chiede cosa è realmente accaduto a Sara e a Sofia. Ma sembra proprio che nessuno le voglia dire la verità. Dopo un po' però Sofia cede e racconta a Elise che per il decimo anno di età di Marcus Paul non organizzò una grande festa. Questo perché Marcus non voleva vedere nessun altro. Sara andò in vasca a riposarsi e mentre era lì una scarica elettrica le causò l'arresto cardiaco. Tornata a casa Elise chiede a Paul di nuovo di quanto è accaduto a Sara. Paul si arrabbia perché in realtà non pensa sia stato un incidente. Elise dopo aver bevuto un po' decide di interrogare Marcus chiedendogli cosa ha provato quando ha trovato la propria madre priva di sensi. Marcus le risponde che aveva l'aspetto di un pesce morto. Paul taglia l'erba e Elise cerca di fare pace con lui. Ma Paul pare essere arrabbiato seriamente. Elise chiede a Paul se può accompagnarlo all'aeroporto al che Paul risponde di no facendole notare che ha esagerato con l'alcol. Elise osserva Paul andarcene via. Dopodiché Elise risale nuovamente in soffitta. nota una luce tra le tavole di legno attraverso le quali Marcus la spia. Elise decide di parlare seriamente con il giovane. Marcus le dice che lo fa sempre e che spiava anche la madre. Elise chiede a Marcus di raccontargli tutta la verità. Marcus accetta ma solo se Elise si spoglia davanti a lui. Elise accetta e Marcus le racconta che sapeva dei suoi problemi al cuore e le fa capire che c'entra qualcosa con la sua morte. Quando Paul rientra Elise lo porta in soffitta per fargli vedere i buchi attraverso cui Marcus lo spiava con Sara e li spia ora. Ma la luce non c'è più. Paul è stufo dei comportamenti di Elise e le suggerisce di farsi visitare da uno psicologo. Marcus scopre che suo padre è andato di nuovo via per affari. Dice a Elise di aver ucciso Sara facendolo passare per un incidente. Di notte Elise non riesce più a dormire. Quando Paul rientra gli dice tutto quanto e dice a Paul che Marcus ha intenzione di ucciderla. Paul trova il cane di Marcus morto in piscina. È stato Marcus. Elise va dello psicologo ma continua a soffrire degli attacchi di panico. Viene per questo ospedalizzata. Dopo un paio di mesi viene rilasciata. A prenderla è venuto Paul. Elise e Marcus camminano insieme e Marcus le dice che non prova odio nei suoi confronti e che non è più intenzionata ad ucciderla. Piuttosto le propone di mettersi con lui visto che il padre è ormai vecchio. Ma per farlo bisogna fare qualcosa di peggio. Elise lancia il giocattolo del nuovo cane di Marcus in mezzo alla strada. Sta però arrivando una macchina e Marcus si lancia per salvare il proprio cane finendo in vestito. Grazie. Grazie. Grazie.